1973 esce nelle sale cinematografiche italiane un film per la regia di Mario Monicelli e con protagonista niente po' di meno che lui, il principe della commedia all'italiana, Ugo Tognazzi. Il film si intitola Vogliamo i colonnelli e nella locandina vediamo un Tognazzi sbraitante con addosso una tenuta mimetica e un basco da paracadutista, quasi impegnato a arringare la folla. Basta poco per capire la trama del film, e soprattutto per capirne i riferimenti pratici. Il film è una vera e propria chicca, si trova ancora oggi in commercio per i cultori del genere. Sostanzialmente tratta di un tentato colpo di stato che alla fine si risolve in burletta, però tutto sommato favorisce una svolta autoritaria nel paese. Il paese chiaramente è l'Italia. È un'opera di fantasia? Beh, un po' come tutte le opere cinematografiche lo è, quindi non lo possiamo negare. Ma quello che viene narrato nel film non è esattamente tutta farina del sacco di Mario Monicelli e Ugo Tognazzi. Il background, il retro bosco, quello è tutto vero. Vogliamo i colonnelli, non è altro che la satira di quello che sarebbe stato chiamato il colpo dei forestali. Ecco, anche questa espressione è abbastanza riduttiva, perché per quanto fossero coinvolti anche agenti del corpo delle guardie forestali, non fu un tentativo di colpo di stato da operetta. Fu qualcosa di estremamente serio e che per poco, per pochissimo, per dettagli, come spesso avviene nella storia, non fece svoltare il nostro paese da una fragile democrazia, ma comunque conquistata 25 anni prima con il sudore, con il sangue di tanti innocenti, di tante persone che avevano creduto nell'ideale di libertà, per riportarla indietro, verso una dittatura, o per parificarla ad altri paesi europei che nello stesso periodo vivevano sulla propria pelle la dittatura. Questa è la storia del colpe che non ci fu, e per fortuna non ci fu. Questa è la storia di una notte che avrebbe potuto cambiare per sempre la storia del nostro paese. Questa è la storia del colpe borghese. Il grande giornalista Sergio Zavoli, scomparso poco tempo fa, scrisse un libro, un libro inchiesta, frutto anche dell'intervista che avevano portato alla realizzazione di un'altra inchiesta di stampo televisivo, dallo stesso titolo. La notte della Repubblica. Per quanto libro e inchieste televisive abbracciassero un ampio arco di tempo, con più e più e più temi, tutti incentrati comunque sulla fragilità della nostra democrazia, sottoposta alle pressioni del terrorismo da destra e da sinistra, possiamo dire che quella notte, la notte della Repubblica, fu sicuramente la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 1970, la notte dell'Immacolata. Cosa avviene quella notte? Avviene un tentativo di colpo di Stato che non si concretizza per poco, per pochissimo, e il protagonista assoluto di questo tentativo di colpo di Stato è lui, il Principe Nero, Junio Valerio Borghese, esponente della nobiltà, già comandante di sommergibili e della decima mass durante il secondo conflitto mondiale, fascista, non ha mai rinnegato la sua adesione al fascismo, e salvato da una condanna a morte emessa dai partigiani per l'intervento degli americani a guerra conclusa. Borghese è un personaggio ingombrante, non si può utilizzare altra etichetta. Finita la guerra, ha deciso di promuovere la nascita di un nuovo soggetto politico, quello che diviene il Movimento Sociale Italiano, che sarà la casa dei nostalgici del fascismo, di quella destra che non si riconosce né nell'Unione Monarchica e tanto meno nel Partito Liberale. Una destra nostalgica, una destra che rivorrebbe uno Stato autoritario, è un po' quello che vorrebbe anche lo stesso Borghese. Ma l'MSI col passare del tempo si evolve, cambia, abbraccia nuove correnti, nuove idee, per cui lungo la strada perde i pezzi. Negli anni 60 l'MSI subisce delle micro scissioni. Una è quella di Pino Rauti, che si stacca, fonda il Centro Culturale Ordine Nuovo, successivamente il Movimento Politico Ordine Nuovo, salvo poi rientrare alla vigilia del periodo più caldo all'interno dell'MSI, ma solo per motivi pratici. Facendosi a leggere nelle liste dell'MSI, Rauti si pone al riparo da eventuali inchieste della magistratura. Lui stesso, che finisce nel mirino della magistratura, viene anche arrestato per le indagini di Piazza Fontana, viene scarcerato proprio per evitare di dover trasmettere l'intero fascicolo a Roma, al Porto delle Nebbie. Poi c'è Borghese, che verso la fine degli anni 60 si stacca anche lui, e fonda il Fronte Nazionale, una formazione, come si diceva all'epoca, extraparlamentare, cioè non presente tra gli scranni del Parlamento con dei propri rappresentanti, ma che fa politica politica attiva e che si propone in maniera forte, anche troppo forte, come possibile alfiere di una svolta in senso autoritario del nostro paese. E poi c'è Stefano Delechiaie, detto Ercaccola, perché è un po' basso di statura. Delechiaie è il fondatore e leader di Avanguardia Nazionale, movimento giovanile radicato molto al centro e sud Italia, mentre Ordine Nuovo è più presente al nord. Sono questi tre soggetti, il Fronte Nazionale di Borghese, Ordine Nuovo di Rauti, Avanguardia Nazionale di Delechiaie, a cercare di cambiare il panorama politico italiano in senso autoritario ma anche distruttivo. Non è un caso, non si scoprirà solo con le inchieste dei decenni successivi, che a un certo punto alcuni esponenti di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo si recchino in Grecia ospiti dei colonnelli, quei colonnelli che hanno soffocato da fragile democrazia greca, inizialmente con la complicità del re e poi esautorando lo stesso sovrano, si recano ad Atene ospiti dei colonnelli per una vacanza istruttiva, una vacanza da cui alcuni neofascisti tornano convertiti misteriosamente all'anarchia. È il caso di Mario Merlino, fondatore di un circolo anarchico a Roma, circolo di cui farà parte anche il ballerino Pietro Valpreda, il presunto mostro di Piazza Fontana, poi riabilitato perché effettivamente si scoprirà. Era solo una pedina, capitata nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ma non ci si ferma qui, perché nel 1968 Avanguardia Nazionale balza agli onori delle cronache per gli scontri a Valle Giulia. Il 68 è l'anno della contestazione, la contestazione studentesca alle università in cui si protesta, che vengono occupate. Ebbene, gli avanguardisti sono in prima fila negli scontri con la polizia e con altri studenti negli Ateneidini romani, soprattutto a Valle Giulia, dove avviene una vera e propria battaglia a suon di lacrimogeni, mazze, pietre ed altro. Passiamo al 1969, è un anno critico, un anno che si apre con le prime bombe alla fiera a Milano e non solo. Poi le bombe sui treni in estate, l'autunno caldo, le contestazioni. Il 12 dicembre 1969, la prima grande strage. Piazza Fontana, Milano, 17 morti e quasi 90 feriti. È un qualcosa che scuota l'Italia. Ma quello che a noi interessa in questa nostra narrazione non è Piazza Fontana. Comunque potete trovare contenuti su Piazza Fontana e questo canale con un video dedicato e anche una intervista esclusiva al dottor Guido Salvini, il magistrato che negli anni 90 ha riaperto il caso facendo luce su vari punti nascosti della vicenda. Piazza Fontana, come abbiamo detto, è il 12 dicembre del 1969. Due giorni dopo, il 14 dicembre, sarebbe in programma a Roma una grande manifestazione di tutti i movimenti extraparlamentari di estrema destra. Hanno già chiesto le autorizzazioni, ma all'ultimo non si fa. Tutto annullato. Annullato perché il primo ministro, Mariano Rumor, si è rifiutato di proclamare lo stato d'emergenza dopo lo scoppio della bomba a Piazza Fontana e si è messo anche di traverso nei confronti del ministro restivo, il ministro dell'interno, per evitare provocazioni. Perché quella manifestazione di piazza potrebbe suonare come una provocazione nei giorni dei funerali delle vittime in Piazza Fontana. Tutto ciò viene confermato anche da Vincenzo Vinciguerra, il futuro, rispetto al 69 chiaramente, esecutore della strage di Peteano. Anche di questo abbiamo già parlato. Vinciguerra testimonia, diverso tempo dopo, davanti ai giudici, che lui, assieme ad altri camerati, avevano preparato gli striscioni, le aste, le bandiere per andare a Roma, partire da Udine, profondo nord-est, e andare giù in treno a Roma per la manifestazione. Ed erano stati bloccati, in stazione, dalla Polfer, che li aveva rimandati a casa. Perché no, non risultava nessuna manifestazione. Tutto annullato. Guai a far casino. Allora la prima domanda che ci poniamo è, Piazza Fontana doveva essere un interruttore? Doveva essere la miccia da accendere per qualcosa di più grosso? Forse per una svolta autoritaria? O forse era una prova generale? O forse, come hanno detto altri, solo l'inizio di una stagione? La stagione delle bombe, la stagione della strategia della tensione? Questi sono gli interrogativi. Ma andiamo avanti, andiamo al 1970. È un anno molto complesso il 1970. È un anno che riserva qualche gioia agli italiani. Pensiamo a Italia-Germania 4-3. Se lo ricordano tutti, anche chi non c'era. È diventato qualcosa di iconico nella nostra memoria storica come nazione. Ma è anche l'anno della rivolta di Reggio Calabria. Una rivolta nata in maniera spontanea, inizialmente, di fronte alla decisione di inserire la sede regionale della Calabria, non a Reggio, ma a Catanzaro. E quei moti di piazza, inizialmente spontanei, dovuti alla indignazione popolare, e inizialmente bollati dalla destra come volgari teppisti. Quei moti verranno cavalcati dalla stessa destra, a cominciare da un personaggio di nome Ciccio Franco, che inventerà lo slogan Boia Chi Molla. È lui a guidare la rivolta di Reggio Calabria, una rivolta che dura tempo e che impegna le forze dell'ordine per riportare la calma in città. Ciccio Franco, tra l'altro, verrà premiato per questa sua azione da capopopolo con un seggio parlamentare dall'MSI. Poi il 1970 è anche l'anno della strage ferroviaria di Gioia Tauro. Un treno che deraglia. Si dice per un guasto, per una rottura di un carrello. Ci vorranno molti anni per sapere da alcuni pentiti di mafia che non era un guasto, era un atto deliberato. Perché in quel momento tante forze, forze eversive, stanno cercando alleanze. Alleanze anche con la malavita organizzata, con la mafia. Lo scopo è cambiare il paese. Cambiarlo secondo i desiderata di certi personaggi. E chi sono questi personaggi? Beh, al di là dei mafiosi, che vogliono avere libero accesso alle istituzioni, sostituirsi ai prefetti, neanche se fossero tornati ai tempi di Lachi Luciano e dello sbarco in Sicilia, ci sono loro, Junio Valerio Borghese e i suoi accoliti. Ma ci sono anche industriali, politici, militari, affaristi e alcuni ambienti decisamente oltransisti in ambito NATO. Sono loro che sognano un'Italia diversa, un'Italia alla greca, potremmo dire. Un'Italia in cui le forze reazionarie e i militari prendono il potere, instaurando un regime repressivo. Gli esempi, come abbiamo detto, sono la Grecia, ma anche la Spagna di Francisco Franco, che pure in quel periodo è abbastanza malato e sta cercando di organizzare il futuro del suo regime. E il Portogallo, che non ha più ormai Salazar al potere, c'è Caetano al posto suo, ma che è ancora retto da una cupa dittatura di stampo corporativista e fascista. Sono questi i modelli. Anche perché poi nel Portogallo c'è una certa agenzia di stampa, la Ginterpress, che in realtà è una centrale di eversione internazionale. Una sorta di spectre nera, ma anche della Ginterpress abbiamo parlato in apposito video che potete ritrovare in questo canale. A capo di questa macchina organizzativa per cambiare l'Italia in maniera radicale, e non in maniera democratica, ma con un golpe, c'è lui, il Principe Nero, Junio Valerio Borghese. E' lui che si fa catalizzatore degli interessi molteplici che arrivano da più parti. E' lui che si muove, o i suoi uomini, per riunire all'interno del fronte golpista quante più anime possibile. Abbiamo detto, c'è la mafia, la mafia che chiede, vuole qualcosa, vuole più potere, vuole meno polizia, vuole poter avere il controllo del territorio di sua competenza. E si offre di intervenire con dei propri sicari che andranno a uccidere il capo della polizia nella notte del golpe. Poi ci sono i militari e i paramilitari. Ci sono i forestali. Un ufficiale dei forestali si è offerto di mettere a disposizione una colonna motorizzata per la notte del colpe, una colonna che dovrebbe arrivare ai centri e ai rai di Via Teulada, prenderne il controllo per poi irradiare il mattino successivo il comunicato letto dal Principe Borghese in prima persona che dia notizie agli italiani dell'avvenuto colpo di Stato. Ma non ci sono solo i forestali che poi entreranno nell'immaginario collettivo come i protagonisti di questo golpe, il famoso golpe dei forestali. No, perché ci sono anche dei carabinieri infedeli, dei poliziotti infedeli, alcuni alti ufficiali dell'esercito che almeno inizialmente si mettono a disposizione, ognuno con compiti differenti. Ad esempio c'è un colonnello a Verona, il colonnello Amos Spiazzi, colonnello di artiglieria. Già all'interno dei nuclei per la difesa dello Stato, una struttura parallela e clandestina nata in seguito al convegno del Parco dei Principi, di cui abbiamo già parlato, che avrà l'ordine di recarsi nella Stalingrado d'Italia, ossia Sesto San Giovanni, per un rastrellamento, per evitare che la Stalingrado d'Italia insorga. È il fortilizio del PC, Sesto San Giovanni, e va presidiato. Poi ci sono altri ufficiali, ufficiali che devono spalancare le porte del Ministero della Difesa, carabinieri e polizia che devono mettersi a disposizione per andare ad arrestare parlamentari, altri politici, giornalisti, membri dell'opinione pubblica, tutte personalità che possono essere d'intralcio al golpe. Questi vanno prelevati da loro abitazioni, caricati su dei traghetti a Civitavecchia e portati in Sardegna, alla base di Capo Marragio, base nato. Una base che era già finita nelle carte, ma ancora poco si sa, del piano solo, il piano orchestrato dal generale De Lorenzo, quando era comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, per un golpe, un altro golpe non effettuato, neanche provato per fortuna, condotto solamente dai carabinieri per questo piano solo. E poi ci sono i funzionari del Viminale, che devono aprire la strada agli avanguardisti, agli ordinovisti, ai membri del fronte, la strada all'interno del Viminale stesso, per prendere il controllo del centro di telecomunicazioni, la centrale che permette allo Stato italiano di riuscire a comunicare con tutti i prefetti e quindi con tutto il territorio, e dell'armeria, un arsenale carico di armi leggere che dovranno equipaggiare, appunto, gli insorti. È questo il piano, il cosiddetto piano Tora Tora, dal nome in codice usato dai giapponesi a Pearl Harbor. D'altronde si entra in funzione il 7 di dicembre del 1970, ossia 29 anni dopo l'attacco di Pearl Harbor. Data simbolica, il piano prevede che le operazioni inizino alle 9 e mezza della sera e si concludano alle 10 della mattina successiva. Poco più di 12 ore per prendersi il paese e per trascinarlo nell'ombra. E il piano, che è ben studiato, prevede anche delle coperture a livello istituzionale, ma non in Italia, all'estero, perché il principe borghese ha chiesto appoggio ai governi greco, portoghese e a quello americano. Il problema è che gli americani non sono del tutto convinti. Certo, i precedenti spostamenti a sinistra di Aldo Moro, che in quel momento è ministro degli esteri, non sono mai piaciuti agli americani, men che meno a Tricky Dicky, Richard Nixon, che nel 1970 è alla Casa Bianca, consigliato da Henry Kissinger, ed è impegnato in Vietnam, ma anche in un braccio di ferro continuo, con l'Unione Sovietica di Brezhnev e con la Cina di Mao. Però gli americani non sono molto convinti. Non sono convinti soprattutto dalla figura di borghese. Se colpe deve essere, a capo dell'Italia deve essere messo una persona, un qualcuno, un politico di professione che sia conosciuto oltreoceano e rispettato. Gli americani vorrebbero qualcuno di solido, Fanfani, Andreotti, insomma, un democristiano. Poi il gabinetto di governo può essere composto da tecnici, non c'è problema. Ma non ci può essere borghese. A borghese questo non piace, vuole essere lui a prendere le redini del potere. D'altronde ha fatto troppe promesse in giro, anche ad ambienti scomodi come quelli mafiosi, per tirarsi indietro. E quindi cosa succede? Decide comunque di procedere e di, anzi, arrestare anche Andreotti e tutti gli altri democristiani. Anche loro diventano dei bersagli. La macchina golpista si mette in moto la sera del 7 dicembre. C'è la colonna dei forestali che si muove verso il centro produzione RAI. C'è un grosso assembramento di ordinovisti, avanguardisti e membri del fronte che si ritrovano in una palestra agli ordini di un ex ufficiale dei Parà, Sandro Sacucci. Sono loro la bassa forza che dovrà organizzare e mettere in piedi le prime azioni romane del golpe. Questa forza, in parte, confluisce verso il Viminale, ma non entra dal ingresso principale, ma da un accesso secondario. Qualcuno dall'interno apre. Non si saprà mai chi. E in breve tempo gli avanguardisti e gli ordinovisti prendono il controllo dell'armeria, caricano i mitra e le bombe a mano su un paio di camion e via, ripartono verso la palestra per armare i loro camerati. Da Verona si è già mosso spiazzi con una colonna dell'esercito per andare a presidiare Sesto San Giovanni. Ci sono altre manovre in corso. I mafiosi sono appostati nel quartiere dove vive il capo della polizia, ma sbagliano condominio e finiscono intrappolati in ascensore con dei momenti di imbarazzo immaginabile. Quando tutto sembra procedere al meglio, succede qualcosa. Succede che il capo dello Stato, Giuseppe Saragat, viene informato del tentativo di colpo di Stato. Succede che lo stesso Aldo Moro viene informato. E anche i vertici e il PC. Succede che arriva una telefonata a Borghese in piena notte. Borghese sbianca, riattacca, dice ai suori che nulla è andato come previsto, bisogna abbandonare tutto, smobilitare. Succede che agli avanguardisti viene detto di riportare le armi al Viminale, tutte quante, rimetterle sulle rastrelliere ai loro posti. Alla fine mancherà un mitra e sarà abbastanza imbarazzante doverne giustificare l'assenza all'interno di quell'armeria. Succede che ai forestali viene detto, dietro front, tornare a casa. Succede che a Spiazzi arriva l'ordine di smobilitare i presidi appena montati a Sesto San Giovanni e di rientrare in caserma. E allora perché? E soprattutto chi ha dato quell'ordine di rientrare? E chi ha informato il Presidente della Repubblica? Il Ministro degli Esteri? Il capo di quello che forse è il più grande partito comunista dell'Europa occidentale all'epoca. Per anni ci si domanderà, appunto, di chi fu la manina, o meglio la voce, al telefono. Diverse inchieste hanno ipotizzato la presenza di lui, Belfagor, come veniva chiamato all'epoca, il materassaio, Licio Gelli, il venerabile della P2, colui il quale aveva messo a punto il cosiddetto piano di rinascita democratica, che in fondo era un po' la carta carbone del programma politico che doveva mettere in piedi il presunto e mai realizzato gabinetto borghese. Sembra sia stato lui, o forse qualcun altro, qualcuno in ambito NATO, perché d'altronde gli Stati Uniti non vengono direttamente informati del golpe. Forse qualche ufficiale americano ha deciso di muoversi. Anche perché, come accerteranno alcune indagini, c'è un ministero che non viene aperto agli avanguardisti e agli altri golpisti. È il ministero della difesa dove degli ufficiali si rifiutano di aprire le porte. Forse quello è stato il segnale che ha fatto ripensare, che ha fatto annullare il piano golpista, che ha portato a rivedere tutto quanto all'interno di quel piano per sovvertire l'ordine democratico e costituzionale. Quello che è certo è che nelle ore immediatamente successive al dietro front, gli avanguardisti tornano a casa, così come i forestali e i militari. Borghese fa la valigia e scappa in Spagna. Non tornerà mai più, morirà a Cadice nel 1974, si dice di un colpo apoplettico. Tanti dei congiurati della Notte dell'Immacolata inizialmente la sfangano, poi finiscono sotto i riflettori. Qualcuno come Delle Chiaie preferisce espatriare, ma in Sud America, passando per la Spagna e il Portogallo, sempre quei paesi. Delle Chiaie farà il consulente, diciamo così, i regimi molto cupi, sanguinari, finché non verrà arrestato ed estradato. Ma lui, Spiazzi e tutti gli altri, alla fine verranno assolti dalla accusa di aver complottato contro lo Stato. Non c'è stata nessuna cospirazione, c'è stato solo un tentativo di golpe da operetta, una pagliacciata. Questo dicono i giudici, che però forse basano le loro informazioni su una visione parziale. Mancano parecchi tasselli al puzzle. Forse anche per questo i congiurati dell'Immacolata evitano la galera, perché mancava qualcosa, perché mancavano tutti quanti i nastri registrati dagli infiltrati del SID, il Servizio Informazione Difesa, all'interno della struttura golpista, nelle settimane e nei mesi precedenti. Nastri che riappariranno solo molti anni dopo, portati dal capitano Antonio Labruna, ex capitano dei Carabinieri, poi passato al SID sotto l'ufficio del generale Maletti e poi caduto in disgrazia. Capitano Labruna che li porta al giudice Salvini, che sta indagando su Piazza Fontana. Il problema è che esiste un principio, il nebbis in Eden, non si possono processare delle persone per lo stesso reato due volte. Forse alla luce di quelle intercettazioni, di quelle prove, avremmo avuto, almeno nelle aule di tribunale, una lettura decisamente diversa della notte dell'Immacolata del 1970, di quando l'Italia rischiò di diventare come la Grecia o come il Portogallo. Forse avremmo avuto, almeno nelle aule giudiziarie, un esito differente. Non cambia però il giudizio storico. Non fu un golpe da operetta, non fu il golpe dei forestali, non fu nemmeno la satira, comunque bella, graffiante, proposta da Monicelli. Non c'era un colonnello greco di nome Andreas Automaticos, con la lente nera di vetro, non c'era un colonnello Barbacane con la mano finta, non c'era un colonnello Aguzzo che in realtà è uno stupido, o un tente colonnello Ribaud che è un rimbambito. Non c'erano queste macchiette presenti invece nel film. C'era un piano, un piano vero, che poteva portare a cambiare completamente il nostro paese. Per fortuna, come abbiamo detto, non si è verificato. Ma l'Italia ha tremato in quella notte, la notte, la vera notte della Repubblica. Una notte che poteva diventare lunghissima, potevano esserci un'alba il giorno dopo, poteva essere una notte ventennale, come quella del fascismo, o ancora di più. Per fortuna così non è stato. Per fortuna, o per semplicemente quelle telefonate, o per il rifiuto degli ufficiali amministratori della difesa, o per il dietrofronte di qualcun altro, l'Italia si è salvata. Ma questo deve farci sempre restare attenti ai segnali che cogliamo. Perché d'altronde, i PUC, o i falliti PUC, o i tentati PUC, sono tanti, punteggiano la storia umana non solo nel nostro paese, ma in Europa, in Africa, in Asia, nel mondo. E quando qualcuno decide di sovvertire l'ordine costituzionale democratico, non bisogna mai sottovalutare il rischio. Anzi, sottovalutare è quanto di peggio si possa fare. Perché significa poter offrire un'altra occasione a chi è arrivato a tanto così, dal proprio scopo, e il vorrà sicuramente riprovarci. Grazie.